Verrà proiettato al Cinema Massimo di Pescara dal 15 al 17 dicembre Red Land, il primo film sulle foibe, una storia di guerra di 150 minuti dal forte valore emotivo. Norma, studentessa universitaria, studiava la Terra Rossa dell'Istria per la sua tesi di laurea e frequentava diversi paesi. Viene catturata, viene seviziata, viene imprigionata, seviziata, stuprata, pugnalata e poi infoibata. Noi siamo riusciti dopo 75 anni finalmente a portare al pubblico, a mettere in luce questa splendida ragazza che oltretutto riporta il grave, gravissimo problema delle foibe che a noi Giuliano Dalmati ha inflitto molte perdite, molto dolore.